Buon lunedì a tutti amici, vi do il bentornato a questa nuova puntata della rubrica settimanale della libreria esoterica Il Sigillo. Io prima di iniziare a proporvi come sempre una lettura, in questo caso molto specializzata. Vorrei ricordarvi di controllare molto bene nei prossimi giorni la newsletter della libreria esoterica Il Sigillo se siete iscritti ed eventualmente ad iscrivervi perché maggio sarà un mese molto ricco di corsi e di presentazioni e oltre a questo vi ricordo che il 23, per la giornata internazionale del libro, saremo presenti insieme ad altre 5 librerie in piazzetta San Nicolò dove il comune ci ha concesso uno spazio per fare il nostro mercatino librario oltre naturalmente a laboratori, eventi, presentazioni. Per quanto riguarda la nostra libreria avremo Sandro Pravisani con il suo libro Graffiti Antichi di Padova che presenterà, ma prima di presentarlo condurrà tutti i partecipanti a una visita guidata nei dintorni della piazzetta per visionare fisicamente i graffiti magici di Padova, di questa città. Bene, però adesso entriamo nel vivo della nostra rubrica con i segreti di Gurdjieff di Andrea Bertolini Enneagramma, miosi e alchimia uno dei testi, a mio parere, più completi sulla quarta via di Gurdjieff che siano stati finora pubblicati in Italia più completo perché? Perché come potete evincere dal sottotitolo va ad esaminare gli aspetti cardine della tradizione esoterica occidentale l'agnosi, l'alchimia che si riassumono nell'era moderna si sintetizzano, se vogliamo, nell'era moderna nella quarta via di Gurdjieff quindi avremo non soltanto lo studio dell'enneagramma a livello planetario astrologico, alchemico psicologico naturalmente ma anche dei parallelismi estremamente interessanti con l'ognosticismo di cui Andrea Bertolini è uno dei maggiori esperti in Italia ricordiamo soltanto il suo splendido libro che abbiamo già presentato qui al sigillo a viaggio nell'agnosi oltre a questo il testo va ad esaminare aspetti della via iniziatica creata da Gurdjieff gli aspetti meno noti quelli che hanno a che fare con la chimica stessa dell'universo e del corpo umano e questo è estremamente interessante ed ora ve ne darò un breve assaggio con una lettura tratta dagli ultimi capitoli dove viene esaminato il raggio di creazione gli idrogeni e le ottave nell'assoluto come abbiamo visto sono presenti e agiscono tre forze attiva passiva e neutralizzante nel loro stato primario nel sistema della quarta via vengono chiamate carbonio ossigeno e azoto o nitrogeno a questo livello esse sono in perfetto equilibrio quando l'assoluto proietta altri mondi fuori di sé tutto inizia a mettersi in movimento e gli equilibri delle forze in gioco cambiano ecco vedete faccio una breve parentesi abbiamo qui richiami naturalmente all'agnosi al neoplatonismo ma anche alla fisica teorica attuale il mondo fenomenico è sempre caratterizzato dal gioco delle tre forze ora però instabili e in continua mutazione a seconda delle circostanze una delle tre predomina sulle altre fuori dall'assoluto quindi ogni cosa ogni evento ogni sostanza a seconda del momento può essere attiva passiva o neutralizzante e sarà quindi identificata dalle sigle CON quando una sostanza viene considerata al di fuori della sua relazione con la forza che si manifesta attraverso di essa viene denominata idrogeno perché dunque Gurdjieff scelse queste denominazioni in chimica carbonio ossigeno idrogeno e azoto sono i principali costituenti delle molecole funzionali alla vita la maggior parte delle molecole presenti nelle cellule animali e vegetali a parte l'acqua è costituita da sistemi di grosse dimensioni ovvero macromolecole nonostante l'enorme complessità dei sistemi biologici e il numero elevato di elementi chimici disponibili sul pianeta le macromolecole sono composte principalmente da idrogeno carbonio azoto e ossigeno in particolare va rilevata la versatilità del carbonio che lo rende la chiave di volta della biochimica ci rendiamo conto allora che questi quattro elementi hanno un'importanza fondamentale in quanto sono i principali costituenti della vita ma carbonio ossigeno idrogeno e azoto così come si presentano nella materia visibile sono potremmo dire i precipitati di quattro stati che appartengono a una dimensione archetipica cosmica la scienza iniziatica studia infatti la materia prendendo in considerazione non solo le sue proprietà fisiche e chimiche ma anche le sue proprietà psichiche e cosmiche in tal senso carbonio ossigeno idrogeno e azoto corrispondono alchemicamente ai quattro stati archetipici della terra della materia scusatemi terra fuoco aria e acqua scusatemi per l'ultimo lapsus ma come potete vedere lo studio della biochimica attraverso la quarta via di Gurdjieff ci permette di esaminare il raggio di emanazione creativo che dal Big Bang si espande in seguito nell'universo e che dal macrocosmo di conseguenza va a creare tutti gli elementi nelle loro infinite sfumature del microcosmo questo naturalmente implica non soltanto lo studio della fisica e della chimica ma anche dell'alchimia stessa alchimia che qui in questo libro che esamina la filosofia occulta di Gurdjieff assume una nuova proporzione una proporzione moderna che può realmente fondersi ed essere compresa anche finalmente dalla scienza denominata ufficiale quella che è comunemente accettata ecco la quarta via di Gurdjieff può essere il sentiero unificante almeno nella concezione del nostro autore ed amico Andrea Bertolini unificante la scienza occulta tradizionale e la scienza ufficiale moderna bene amici per oggi è tutto i segreti di Gurdjieff Enneagramma Miosi Alchimia Andrea Bertolini vi aspetta qui alla libreria esoterica il sigillo ribadisco uno dei testi più esaustivi sulla quarta via di Gurdjieff io vi auguro una splendida settimana e ci vediamo come sempre martedì a presto a presto Grazie.